Un simile quadro non può non metterci in discussione come adulti e come comunità educante. Il Vescovo di Como, Monsignor Oscar Cantoni, interviene sull'operazione di polizia e carabinieri che ha permesso di smantellare la BB Gang che per mesi ha seminato il panico nel capoluogo. Il Vescovo affida le sue riflessioni al settimanale della diocesi. Sto seguendo con apprezzione le notizie in merito alle indagini sulla BB Gang che per mesi a Como ha operato ai danni di tanti coetanei e sono molti gli aspetti che mi colpiscono della vicenda, dice il Vescovo. Resto colpito innanzitutto dall'età giovanissima dei componenti del gruppo, continua Monsignor Cantoni, e resto colpito dalla consistenza di quello che è stato definito branco. 17 ragazzi sono un'enormità, quindi i motivi del loro agire, spaventare e acquisire potere. Ma che cos'è il potere nell'immaginario di un adolescente? Un simile quadro non può non metterci in discussione come adulti e come comunità educante. Non possiamo non interrogarci su quali siano i valori di riferimento della società contemporanea, conclude il Vescovo di Como. È una preoccupazione che nutro pensando non tanto ai giovani, quanto a chi i giovani è chiamato ad accompagnare nel percorso di crescita umana. Questa è una vicenda che ci richiama la responsabilità e che deve essere oggetto di seria e condivisa riflessione a tutti i livelli e in tutti i contesti.